E ciao belli e benvenuti da Edvers, ricordatevi il click, mi piace, commentare, scrivervi, per voi è semplicemente un click per me è un grandissimo segno di gratitudine E solo per la nicchia questo video, per il semplice fatto che magari tanti di voi già sapranno queste cose che chiaramente andrò a dire Ma serve per tutte quelle persone che magari non giocano ad uno stale Da tantissimi anni spesso mi dicono Ed, io non gioco da 8, 9, 10 anni, cosa è cambiato? Potresti farmi una lista e chiaramente è impossibile farla per ogni giocatore che me lo chiede, sono tanti Quindi ho detto, senti ci faccio un video in modo che quando magari me lo chiedono, il linko direttamente il video o gli dico ho fatto il video e posso andarlo a guardare da solo In questo video è che non dirò tutti che hanno in mente anche perché non mi vengono in mente Poi dipende da quant'è che mancate, perché se ne mancate da 11 anni sono cambiate un sacco di cose, se ne mancate da 4, molte meno Però diciamo che andrò a dire immediatamente le cose che sono cambiate in questi anni Esempio, adesso per dirvi c'è un buff di Tartappendam che avete fisso sempre fino all'81 In cui le vostre exp viene aumentate del 100% e come se da livello 1 a 81 avete 100% più di exp Non è troppo che c'è ed è veramente ottimo Oppure, nelle G prima i drop fino a ondata cadevano per terra, chi droppava, droppava, tira più veloce, chi aveva morale, droppava, ok Adesso il drop te lo devi guadagnare, è un drop fisso, infatti qua vediamo che tipo nella G1 39 nella prima ondata bisogna fare un po' di danno per avere questo drop assicurato Chiaramente più avanti va con le ondate e con le G migliore sarà il drop Esempio, nella quarta ondata della G80 99 prendete 50k, 10 giganti, 5 piene e 20 d'angelo E' buono quindi skillare tutte le ondate perché questi premi adesso non capiterà più che forse, non lo so, laggate Quindi non riuscite a droppare oppure siete troppo lenti, non riuscite a droppare Se voi skillate e fate un danno avete sicuro a tutto per cento il drop Tra l'altro ho fatto anche un video sulla No Sapki, ve lo mostro comunque nuovamente Dove in base al vostro livello, per dirvi 60, vi mostra quanto danno dovete fare per ottenere il drop La prima G fa un po' di difficoltà a prendere il drop anche perché siete a livello 10 e non riuscite a fare tanto danno Però credetemi che già dalla 40 in su se skillate bene il danno lo fate, il drop lo prendete Un'altra cosa che hanno giunto sono 4 9 SP, dal gladiatore, cannoniere e vulcano in giù E si prendono nel raid Draco, poi basta che andate nella nostra wiki per avere più dettagli Che è un raid che si fa dall'80 in su più o meno, a meno parlo per Solaris, fino a 5 volte massimo al giorno La 9 SP acqua invece con Raid Glaze, è simile al Drago, un po' più complicato Il portatore di morte si prende nel Caligo che è un raid a corona che si fa in fine settimana E rinagato nel raid Laurena Sono ottime SP perché soprattutto per il mago le nuove SP sono veramente veramente forti e utili Dell'artista so poco e niente in realtà, non mi sconfiffera troppo come classe, per me è un po' cerba Poi ho aggiunto le perfezioni Per chi non gioca da tanto tempo magari logga, legge, vendo SP più 10, più 15 Cosa vuol dire quel più 15? Sono le perfezioni che si possono mettere sulla carta Qua appunto possiamo vedere dove si prendono le perfezioni E per quale SP servono E praticamente vanno a mettere un punto casuale all'interno dell'SP sia sulle resistenze che su attacco difesa, elemento o HP MP Detta molto semplicemente ragazzi Qua possiamo vedere appunto cosa vuol dire mettere una perfezione Per dirvi se invece l'attacco vi da 10 d'attacco eccetera eccetera Quindi capite bene che in realtà una SP perfezionata bene e tanto prende il suo bel guadagno C'è un nuovo, nuovissimo server che si chiama Solaris Questo qui Che è un server dove tutti hanno cominciato da capo Quindi per chi non lo so dice No non lo so non ho giocato troppi anni ormai sono andati tutti troppo avanti In realtà su Solaris si è estremamente indietro perché il server è mediamente un nuovo Non ha manco un anno E credo che al confronto di Flare che ne abbia 12 E tra l'altro tutti gli altri server Nossia, Cedestia eccetera si sono uniti a Flare Questa è un'altra cosa che è successa in questi anni Quindi in realtà su Flare si trovano tutti gli altri server uniti in più di 10 anni di Nozville Mentre Solaris è completamente nuovo al 100% Che cos'è? Eroe? Che cos'è l'experoe? Cosa sono le armi eroe? All'85 potete entrare in una mappa che si chiama Silvan Che si trova nel portale iniziale di Nozdale dove è spawnata di Nozville E lì ci sono mob estremamente forti con dei raid come Eren e Zenas Dove semplicemente, dico semplicemente per farla breve Killando dei mob non vi darà exper normale ma experoe Che ha delle armi uniche che sono estremamente più forti delle armi normali Dei libri con dei buff secondari che si possono aggiungere al PG eccetera eccetera Fino all'85, in realtà anche 90 se non siete equipati veramente bene È inutile che anche ci provate a fare experoe Hanno aggiunto pure i titoli sono stale Come se niente tanti titoli e come ottenerli Me ne prendo un a caso Orrore, titolo dell'evento di Halloween I danni contro i non morti a livello basso incrementano del 3% Oppure che ne so, prendiamone un a caso Orecchio penzolanti Si trovano allo scrigno della Luke Di 3 a mente è il seguente valore 2% La concentrazione a mente è il seguente valore 2% Sono titoli che si possono indossare su PG Non sono cumulabili Ma potete switcharli ogni volta che volete E sono comunque tanti e carini Certi più utili di altri ovviamente Ah e tra l'altro Chi dice che Nozdale negli ultimi anni è peggiorato Confortaprima Alla sindrome di nostalgia Tipo i primi 151 Pokémon sono i migliori No ragazzi È migliorato moltissimo lo stale Confortaprima In tantissime cose Come Oltre a tutto quello che ho avuto fino adesso Anche la load Prima la load erano 2 E solo 2 ore al giorno Adesso invece è praticamente sempre aperta Addirittura quella delle 2 di notte Che finisce alle 4 Poi 13-30 14-30 15-30 16-30 Ok Cioè guarda 18-30 19-30 La load adesso è sempre aperta Però il load si può entrare solo al 55 Come se arriva facilmente al 55 Facendo le quest Che danno estremamente più expo Confronto a un tempo E soprattutto se abbinate All'arena dei talenti Che cos'è l'arena dei talenti È una mappa Unica PvP Dove voi Andando Con il vostro personaggio Affronterete Un PvP 3.3 Più o meno del vostro livello Nel canale 3 o 4 Dalle 13 in poi È livello 30 in su Se vincite Vi dà tanta exp Quindi veramente ottima Tutti i giorni Fino al massimo di 5 volte Si può fare SPS Anche questo è mediamente nuovo Sono delle SP Che si possono mettere sui compagni Vi faccio un esempio Prendendone una Molto buona Che è Yuna Che si può indossare su Sakura Gram Erdemian Oppure Yertiland E in base a come esce Il buff Che è completamente randomico Expandola Potete anche cambiarlo con dei ticket Vi dà un ottimo supporto Esempio Bontà d'animo Se esce S Via mentre Allergeri tutti i elementi Del 4 per E in più vi cura Da morire Sono tante le PSP Certi vi curano Certi vi fanno tankare Certi vi droppano più oro Anche lì Date un'occhiata Alla nostra wiki E decidete voi Qual è la migliore In base appunto Vedendo i buff Che danno Molti dicono Sono livello 30 Che PSP Mi consigli No ragazzi Fino a livello alto La PSP Manco vi serve Manco dovete incularvela Le quest Valhalla Valhalla Che cos'è La Valhalla A parte che qui potete vedere Come si fanno le Valhalla Tutta una guida Fatta molto bene Ricordo che se Qualcuno non sa Dove si trova Qualcunque si Basta che clicca Va a controllare Sempre la nostra wiki O questo si trova Desert e Eagle City E sono delle quest Che vi aiutano Da livello 50 in su Xpare bene Vi danno ottimi premi E anche l'89 Calcolate che io Facendo il secondo atto Dele Valhalla Ho fatto circa 30% E l'89 È veramente tanto Sono 4 atti principalmente E poi vabbè Continuano Sempre la nostra wiki Sono veramente Utili ragazzi Soprattutto certi raid Come Yartiland O come Fafnir Che sono raid nuovi Dove il livello Non conta Nemmeno l'equipaggiamento Si fa dal 70 in su E si troppano cose Veramente ottime Ma a parte Fafnir e Yartiland Hanno aggiunto tanti raid Che ne so Arena, Zenas, Greniga Kertos, Valakus Ne hanno aggiunto tanti Ma non vi impanicate C'è tanto content Lo scoprirete piano piano E potete chiaramente Guardare tutto su internet Cercando semplicemente un raid Ma che cos'è questo raid? Su internet ragazzi Avete sempre la risposta Facciamo finta che non sapete Che cos'è il Kertos Kertos non stale Ok Basta semplicemente scriverlo Qua vi esce la nostra wiki Che vi spiega Che cos'è un Kertos A che livello si fa Tutto quanto Una cosa che in realtà È cambiata E non mi fa impazzire A me personalmente Però capisco che È la mia solo opinione È che adesso Corona di ghiaccio Per entrare a fare raid Non dicessita più i contributi Non c'è bisogno di stare in corona Per i contributi Richiede pochissima reputazione Tipo un K Per entrare È tipo B120 Per esponare Calcolate che nella G81 Ne faccio 5 di K Di reputazione Quindi capite bene Che è abbastanza Irrisorio Quello che vi chiede Ma non vi chiede più i contributi Compro Scarpe onorevoli Equipe onorevole Che cos'è L'onorevole Con la reputazione adesso Potete scambiare degli item Da queste psiche Che si trova Sempre dentro l'arena L'equipaggiamento Quello veramente importante È l'88 Idem resistenze onorevoli Che hanno 10% Somma 0 Fuoco E oscuro Oppure gli item Anti malus Insomma ci sono un po' di Ipt interessanti Che si possono scambiare Con la reputazione E l'equip onorevole È drasticamente ottimo Per PP Perché aumenta Per pezzo La potenza in PP 10% C'è una cosa che Non si sta con certezza Ovvero che questo 10% Chiaramente in PP Sia un malus Poi in PVE Tanti dicono di sì Tanti dico di no Diciamo che la realtà Forse sta in mezzo Anche lo stesso Sirio Ha detto Tante volte sì Tante volte no I gemme stessi Tante volte sì Tante volte no Non c'è una sicurezza Del malus Che hanno in PVE Però diciamo che sono ottime Anche se io preferisco Molto di più Le 90 fake Questa è un'altra cosa Che hanno aggiunto Ovvero L'eroe obliato Sono delle armi Che escono già più 10 Un'ottima alternativa Sia con le norevoli Sia per le 90 Del grande comandante Soprattutto se il comandante Quelle delle Ibrahim Per intenderci È tipo più 5 Più 6 Più 7 Ok Lo stessa arma Che nasce più 10 Con lo stesso erarità È molto meglio La fake Eroe obliato Altra proposito Io vendo su Solaris Tutti il set dell'eroe obliato Per arciere Veramente ottimo Un lato bene Soprattutto l'arco E l'armatura Ha 20 milioni in uno E sono praticamente Forse l'unico del server Averlo E con quello volate Tranquilli Poi ne ho aggiunto Tanti item Tanti costumi Mount Aveva voglia Però diciamo che In questo video Volevo solamente accennare Alle domande più frequenti Che mi vengono fatte E spero che vi possa essere Stato d'aiuto Per qualsiasi domanda Qua sotto potete commentare Vi ricordo di lasciare un like Per supportarmi E Paypal qua sotto Sempre per supportare me E il canale Edves vi saluta E noi ci becchiamo A un prossimo video Ciao Ehi ciao Ti consiglio di guardare Di altri video Tallo Ciao 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 Ciao